E ora parliamo delle prossime elezioni regionali. Finalmente c'è la candidata del centro-destra, la sindaca Susanna, anzi l'europarlamentare Susanna Ceccardi. Tutti i dettagli in questo servizio. Vediamo. E' ufficiale, sarà Susanna Ceccardi la candidata del centro-destra per le elezioni regionali che si svolgeranno in Toscana e che sono previste a settembre. Lo hanno annunciato Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una nota congiunta. Intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, è già impegnato in una missione nella nostra regione in vista della prossima campagna elettorale. Prevista per stasera a Torre del Lago una cena con i militanti dove si discuterà anche del candidato a sindaco per Viareggio. Mentre domani è in programma una lista di appuntamenti a Lucca, Santa Croce, Sull'Arno, Vada, Follonica e Grosseto. Salvini farà colazione in piazza a Napoleone di Lucca, poi incontrerà gli imprenditori del cuoio al polo tecnologico conciario di Santa Croce in provincia di Pisa. Quindi pranzo con la Col di Retti a Vada per poi discendere da costa e arrivare a Follonica dove alle 17 c'è in programma un incontro con balneari e albergatori. Chiuderà la giornata in un incontro riservato al municipio di Grosseto con il sindaco di centrodestra Anton Francesco Vivarelli Colonna.